Io sono Fiorella, ho 32 anni, lavoro per un'azienda internazionale che si occupa di corsi online per la crescita personale e attualmente vivo a Tallin in Estonia. Ho frequentato l'Università dei Studi di Trento come trennale, ho fatto migliazione linguistica e poi a Verona ho fatto giornalismo, questo un po' in breve perché sono un'alumna unitrento. Dunque questo corso Global Back to Business dell'Università dei Cincinnati è estremamente interessante, spero vivamente che facciano una nuova edizione anche l'anno scorso e l'anno prossimo. Perché è interessante? Perché dunque non si può riassumere tutto in breve perché ogni lezione, sono nuove lezioni, ogni lezione ha un focus molto specifico, però c'è questo fil rouge che è appunto come comportarsi in un'economia globale. Quindi come ci muoviamo, cosa è meglio fare in un contesto multiculturale a tutti gli effetti. Il corso è strutturato molto bene perché abbiamo delle letture propedeutiche alla lezione, poi c'è la lezione che dura un'ora, la presentazione del docente, 30 minuti di domande e risposte estremamente interessante. E tutto questo serve appunto come come confronto. È bello perché ci sono partecipanti da tutto il mondo, veramente da ogni continente, quindi America e anche qui dall'Europa, Asia, Africa. È davvero interessante anche capire i diversi punti di vista che ci sono su uno specifico argomento. Per esempio l'ultima lezione stavamo parlando di piattaforme digitali, un ragazzo dall'India ha tirato fuori dei punti molto interessanti che per esempio qui in Europa ancora non si applicano perché siamo a livelli diversi diciamo, però possono comunque dare degli spunti interessanti per il futuro. Questo corso per me è stranamente importante perché appunto lavoro in un'azienda internazionale e nel mio lavoro all'interno del team marketing di localization, quindi cosa vuol dire? Io porto i corsi di questa azienda in Italia e i miei colleghi sono persone che portano gli stessi corsi nel mercato spagnolo, francese, tedesco, russo, chi c'è ancora? Francese e poi India come nuovissimo mercato. Quindi questo corso mi aiuta un po' a capire ancora meglio quali sono le dinamiche sia fra persone che poi in mercati diversi, quindi come portare diciamo l'azienda sui diversi mercati mantenendo quello che è l'azienda, quindi mantenendo il focus, però localizzando al meglio verso il mercato di destinazione. Quindi per me è estremamente importante. Una delle lezioni che è stata per me più interessante anche per i miei studi di mediazione linguistica è stata proprio una lezione sulla comunicazione, la seconda lezione, dove praticamente si analizzava che cos'è la comunicazione da quattro punti di vista, linguistico, semiotico, culturale e infine antropologico. E la docente diceva appunto che secondo lei l'approccio antropologico è il migliore da usare per porsi al meglio in un ambiente fatto da persone provenienti da diverse culture. quindi da adesso non posso entrare nel dettaglio però ci ha dato degli spunti estremamente interessanti e devo dire che ho anche avuto alcune idee poi da presentare all'executive team qui dell'azienda per provare a fare qualcosa di nuovo. Quindi ecco, Sto avendo un'esperienza estremamente positiva, siamo quasi a metà di questo percorso. Anche l'impegno devo dire un'ora e mezza di venerdì che in Europa è al pomeriggio, un'ora e mezza di sabato è tutto sommato fattibile. Se ci dovesse essere una futura edizione consiglio veramente a tutti di candidarsi e provare a tenere un posto perché è veramente open mind. È un'esperienza davvero interessante e mi sento di consigliere a tutti, anche a chi non lavora necessariamente per un'azienda internazionale, ma semplicemente vuole avere uno sguardo globale sull'economia del mondo attuale.